Ragazzi vedete quella cosa lì? Allora quella cosa lì dovrebbe essere tecnicamente Amanda di Adventurer So che il mio amico Brilla Flea in questo periodo è molto appassionato di Amanda E boh è strano raga cioè guardatelo Allora aspetta che io qua mi nascondo tecnicamente non dovrebbe vedermi qua Ok? Allora lui si sta comportando in modo molto strano Non è ovviamente la vera Amanda È strano cioè nel senso il mio amico alle volte si comporta in modo un po' inspiegabile Basta cosa sta facendo? Raga è inquietantissimo aiuto Raga mi ha trovato! Mi ha trovato! Aspetta 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 devo scrivere in chat Gli ho scritto che fai? Vabbè adesso Raga perché mi scrive via? Ma non è che tipo Amanda di Adventurer Oh mio dio mi sta tirando le pozzioni Ok facciamo finta di andare via poi dopo lo spiamo da lontano Va bene Ok 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 basta però Allora adesso devo cercare di capire Raga è strano perché non ho mai visto il mio amico così Impertinente Ma che cosa? Cosa sta facendo? Perché sta facendo questo? È normale secondo voi? Cioè è un amico normale Non è normale come amico secondo me Raga avete visto come si è mosso? Poi qua adesso sta facendo una cosa strana Vediamo se mi risponde perché se mi risponde una cosa tipo strana Potrebbe essere che è veramente tipo posseduto da Amanda di Adventurer Raga è volato è uno skyrocket Cosa è successo? Sta cagando frecce No 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 ha capito ha capito che sono qua No 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 che cosa è inquietante Raga cosa sta facendo? Raga 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 No 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 via 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 No 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 per favore per favore No 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 È inquietantissimo Non è Allora questa cosa su Minecraft Vanilla Non è normale O hai cheat Che è molto probabile Oppure Cosa ancora più probabile È stato hackerato da Amanda Ciao Posso dormire? Perché voglio capire se in questo mondo diventa giorno Poi io gli avevo scritto e non mi ha risposto Vediamo se No aspetta c'è un libro Vediamo un attimo Ok però devo capire un attimo Perché forse mi vuole dare questo libro Cioè è lui che sta scrivendo ma magari il suo account di Minecraft è stato posseduto Io non sto capendo raga vi giuro Tutto ciò è veramente strano Signor Golem mi protegga lei per favore Io ho bisogno della sua possenza affinché lui non mi distrugga Raga ha fatto esplodere tutto Ha fatto esplodere tutto Perché ed è saltato come una cavalletta Iscrivetevi Non capisco come mai questa violenza da parte del mio amico E mi dice fermo punto esclamativo E sto fermo Forse voleva fare tipo la trappe de chest Ma mi sa che è stato talmente stupido Da fare esplodere da solo o no E aspetta non ho ancora letto Un attimo Ho capito questo è un codice morsa Serlox you death Non ha scritto bene Raga mi ha intrappolato Allora sono nella TNT E tipo mi ha dato blindness Che però io ancora posso vedere perché Via No via 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 Scappa 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 Accidenti Però io qua ho un secchio di là No via Vai via Mannaggia te Alle tue Allora Allora Basta Basta Ma raga ha scritto Distruggeremo questo mondo Cosa vuol dire Tutto ciò è veramente strano Devo dirvi Iscrivetevi Al prossimo episodio Grazie a tutti